Arriva a meno di due mesi il riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri dello Stato di Emergenza Nazionale per l'alluvione che ha colpito l'Aretino il 27 luglio. L'acqua si è portata via anche la vita di un uomo, Carlo Pergentino Tanganelli, travolto dall'ondata di Piena nei dintorni di Olmo. Ingenti i danni per milioni di euro per aziende e famiglie. A commentare la notizia, anche il governatore della Toscana Enrico Rossi, mi fa piacere, ha detto ringrazio il governo e ci metteremo subito al lavoro. Soddisfatto anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che ci svela una concausa di quanto è accaduto al Bagnoro dove, ad andare sott'acqua, non sono state soltanto le famiglie ma anche l'antica pieve di St. Eugenia. Dovrebbe arrivare un finanziamento che consente il recupero della risorsa persa in quella situazione. Ricordo che sono stati fatti conteggi di molti milioni di euro persi da famiglie e da aziende e quindi il riconoscimento di calamità nazionale dovrebbe portarci ad avere un ristoro almeno parziale di quanto oggettivamente è speso per uscire da quel grosso problema. Visto che me l'ha domandato ricordo a tutte le famiglie, a tutti gli imprenditori di fare buona nota di tutto quello che hanno speso perché i rimborsi avverranno sicuramente attraverso una rendicontazione della spesa che deve essere opportunamente documentata. Oggi c'è il sottosegretario ai beni culturali, la pieve del Bagnoro. La pieve del Bagnoro, guardi, sono arrivato un minuto in ritardo perché avevo una riunione sul sistema di deflusso delle acque di St. Eugenia al Bagnoro. Un tubo tra l'altro che non mi ricordavo, avevo messo io quando ero assessore ai lavori pubblici e che non è stato manutenuto per 15 anni e non ha funzionato nel momento in cui doveva funzionare. Per cui si sta studiando un modo per renderlo più efficiente indipendentemente dagli eventi meteorici come quello del 27 di luglio.